Il 26 dicembre 2014 Il 3 gennaio 2015, concerto di Natale, alle ore 20 e 30 in chiesa parrocchiale, concerto natalizio del Corretto d'Oremi, diretto da Claudio Vecelio. Il 5 gennaio 2015, bruda la vecia, alle ore 20 e 30 in piazza, con musica e vin brulee, premiazione quarta edizione fai più bello il tuo paese. E per finire, il 6 gennaio 2015 Castagnata in piazza, alle ore 20 e 30 Castagnata con vin brulee, e alle ore 21 estrazione biglietti Lotteria della Befana. Per informazioni, info-gruppocostalissoio.it, oppure su Facebook, Gruppo Costalissoio.